Sempre in linea con il mio ultimo video, oggi torniamo in Cina, con una compagnia che si è fatta notare particolarmente nel mondo dell'automotive grazie ai suoi avanzamenti nel mondo delle batterie. Oggi parliamo infatti di ION. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi parleremo della sussidiaria più promettente di GAC, ovvero ION. Ma prima di cominciare come al solito vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanellina degli avvisi per non perdere nessuno dei prossimi video in uscita. Grazie mille. ION, come appena detto, nasce dalla compagnia cinese GAC, che sta per Quenzu Auto Corporation, che negli ultimi anni si sta concentrando per lo più nella produzione di nuovi veicoli elettrici. Fondata nel 2018, GAC New Energy, come veniva chiamata all'inizio, prima di diventare poi ION, ha intenzione di portare sul mercato fino a 12 veicoli elettrici in categorie tutte diverse. E lasciatemi dire che più si ricerca dentro queste compagnie cinesi, più ci si perde in un buco nero di collaborazioni passate ma anche presenti. Per farmi un esempio, GAC negli ultimi 10-12 anni ha collaborato con la produzione di veicoli per Fiat, Honda, Mitsubishi, Toyota e BYD, senza contare partnership precedenti con Peugeot e Izuzu. Ma torniamo a noi. ION attualmente ha quattro veicoli in produzione e alcuni di questi sono equipaggiati con degli assi nella manica che la distinguono nel mercato cinese elettrico. Pertanto direi di iniziare con la prima auto che l'azienda ha presentato al China International Automobile Exhibition nel 2018 con il nome di ION S. La ION S entrò ufficialmente in produzione nel maggio del 2019 e nel 2021 vide un restyling esterno e di diverse componenti interne. Pertanto oggi parleremo di questa versione, anche perché la versione del 2019 in realtà non viene più venduta. Questo nuovo restyling ricevette il nome di ION S Pro, quindi l'aggiunta del Pro, un po' come succede con i telefoni. Partiamo dunque con le specifiche tecniche e le dimensioni di questa berlina cinese. La ION S sarà alta 1,50 m, larga 1,80 m e sarà lunga 4,80 m. Avrà un bagagliaio solamente posteriore da 453 litri ed arriverà con ben tre configurazioni di potenza e batterie, anche se tutte le versioni arriveranno con un singolo motore situato sotto al cofano. La versione base arriverà con una batteria LFP o litio ferro fosfato da 50,6 kW, capace di percorrere secondo al ciclo NEDC 410 km. Monterà un motore elettrico da 100 kW o all'incirca 136 CV, 225 Nm di coppia e percorrerà uno 0 a 100 in 9,6 secondi. Di seguito abbiamo la versione con batteria Liglioni di litio da 58,8 kWh, 150 kW di potenza e 350 Nm di coppia, che permettono all'auto di abbassare lo 0 a 100 a 7,6 secondi. Questa versione avrà un'autonomia, sempre sotto al ciclo NEDC, di 510 km. Ed infine abbiamo la terza ed ultima versione, che avrà 165 kW di potenza, 315 Nm di coppia e monterà una batteria da 69,9 kWh, che permette un'autonomia di 602 km. Questa ION S Pro mi piace molto esteticamente, ricordandomi specialmente nei gruppi ottici una Lexus. E a questo punto immagino che le collaborazioni con Toyota abbiano portato anche a questo. Per quanto riguarda gli interni, la S Pro risulta molto curata ed è dotata di due schermi, uno da 12 pollici per le informazioni di guida ed uno più grande da 14 pollici per l'infotainment e navigazione. Arriverà inoltre in tutte le sue versioni con un tetto panoramico enorme che ricopre quasi interamente il tettuccio dell'auto. Parlando di prezzi invece, la ION S Pro, nella sua versione base, viene venduta sul mercato cinese al prezzo di 142.245 yuan o all'incirca 20.000 euro, fino ad arrivare nella versione top di gamma a 179.800 yuan. Ma muoviamoci velocemente verso il prossimo veicolo, anche perché dopo questo ne abbiamo altri due. Il secondo veicolo di questa compagnia cinese è un SUV crossover, ovviamente perché sono quelli che vengono venduti di più, chiamato ION LX, che ha iniziato la produzione nell'ottobre del 2019, dopo la sua presentazione all'auto Shanghai ad aprile dello stesso anno. Anche quest'auto, come la precedente, ha visto un restyling importante nel 2021. Le dimensioni di questa ION LX Pro sono lunghezza 4,83 m, altezza 1,68 m e larghezza 1,93 m. Insomma, poco più grande di una Volkswagen ID.4. Arriverà in tre diverse configurazioni. La versione base monta un motore da 180 kW e 350 Nm di coppia, con trazione anteriore e percorre uno 0 a 100 in 7,8 secondi. Monta una batteria da 93,3 kWh che permette un'autonomia di 650 km, sempre sotto al ciclo NEDC. Non smetterò mai di ricordarvelo. La versione intermedia monta lo stesso pacco di batterie, ma avrà un motore da 360 kW con 700 Nm di coppia, trazione integrale e uno 0 a 100 in 3,9 secondi. Questa versione però ha un'autonomia dichiarata di solamente 600 km, andando a perdere quei 50 km di autonomia, prediligendo magari la potenza al posto dell'autonomia. Ed infine abbiamo la versione top, almeno per quanto riguarda l'autonomia. Quest'ultima monta lo stesso motore della versione base da 180 kW con trazione anteriore e avrà più o meno lo stesso 0 a 100. Quello che invece è decisamente diverso è la batteria, che in questo caso è da 144,4 kWh, con una tecnologia sponge silicon che permette all'auto un'autonomia incredibile di ben 1.800 km sotto al ciclo NEDC. Il problema più grande è di avere un'autonomia di 1.800 km sotto al ciclo NEDC è che per moltissime persone questo ciclo è il meno accurato che esiste tra tutti. Infatti, spesso per avere un'idea più accurata dell'autonomia reale del veicolo, si divide l'autonomia del veicolo indicata sotto al ciclo NEDC per 1,4, andando a risultare in questo caso comunque in un'autonomia di 720 km. Sono quasi del tutto certo che abbiano sfruttato questo ciclo per indicare l'autonomia del veicolo, per poter dare così un numero tondo che faccia parlare di loro, cosa che poi è successa in realtà. ION ha dichiarato inoltre che la LX Pro potrà ricevere fino a 480 kW per la ricarica rapida, ed in questo caso si riuscirebbe a caricare l'auto fino all'80% in solamente 8 minuti. Non so se ne siete al corrente, ma delle gran ricariche da 480 kW non esistono. In realtà ne esiste solamente una, proprio a Guenzong dove è nata l'azienda, ed è dentro la fabbrica. Passando invece agli interni dell'auto, il restyling l'ha resa molto simile alla ION S Pro, ma lasciandogli alcune feature uniche per questo veicolo, come dei pannelli solari posti sopra il tettuccio dell'auto, che in realtà vanno solamente a dare energia al sistema di riscaldamento o raffreddamento dell'auto, e i sedili posteriori che montano un poggiapiedi reclinabile, anche se in realtà non ne vedo veramente l'utilità, perché bisognerebbe essere dei bambini o veramente veramente bassi per utilizzare questa feature, anche con il sedile frontale che si può reclinare. Parlando dei prezzi invece, questa ION LX Pro viene venduta in Cina nella versione base a 286.600 yuan, o all'incirca 40.000 euro. Nella versione intermedia a 409.600 yuan, circa 57.700 euro. Ed infine nella sua versione top con 1000 km di autonomia, sotto il ciclo NEDC, a 459.600 yuan, ovvero intorno ai 64.700 euro. Passiamo dunque alla penultima auto di oggi, ovvero il crossover compatto ION V. Quest'auto è stata lanciata nel mercato nel giugno del 2020, e lo so, non ci crederete, ma anche quest'auto, come tutte le precedenti, ha una versione Pro. Questa ION V Pro sarà lunga 4,65 m, alta 1,72 m e larga 1,92 m. Arriverà con due tipologie di motori elettrici, ovvero uno da 165 kW e uno da 200 kW, che permetteranno uno 0 a 100 che varia da i 7,6 secondi ai 6,9 secondi, ma avrà invece ben 5 capacità di pacchi batterie diverse, partendo da quella più piccola da 69,9 kWh fino ad arrivare ad una da 95,8 kWh, con le autonomie che variano in base alle varie versioni, ovvero la versione base da 500 km fino ad arrivare alla versione top da 702 km d'autonomia. La specifica che ha fatto parlare davvero tanti giornali di quest'auto è stata l'integrazione del grafene dentro l'anodo delle batterie, che permetterà all'ION di ricaricare dal 30% all'80% in 10 minuti. Sarebbe tutto molto bello se non fosse che l'avano presentata esattamente con la ION LX Pro di cui abbiamo parlato prima, e come in quest'ultima serve una colonnina da 480 kW per ricaricarla in questa velocità. Pertanto per ora non è ancora fattibile. L'auto però in ogni caso ha il suo fascino e il suo stile unico che si scosta un minimo dalle sorelle che abbiamo già visto prima, ma non negli interni, quelli rimangono esattamente gli stessi. Passando dunque ai prezzi per questa ION V Pro, partiamo dalla versione base che viene venduta in Cina a 172.600 yuan, che sono solamente 24.300 euro, mentre per la versione top arriviamo fino a 239.600 yuan, ovvero all'incirca 33.740 euro. Ed infine abbiamo l'ultima auto di cui paneremo oggi, ovvero la ION Ypsilon. E quest'auto non ha una versione Pro, anche perché è stata lanciata nella metà del 2021, probabilmente quando sono state lanciate le versioni Pro delle altre auto. Durante la presentazione di quest'auto è stata presentata anche una versione chiamata ION YPO, che sarebbe in pratica la versione ride sharing di quest'auto. Quest'auto tecnicamente è una monovolume, ma queste linee molto slanciate, magari anche questo bicolore dato dai dettagli dell'auto la rendono visivamente molto più sportiva di quello che in realtà è. Lunga 4,40 m, alta 1,64 m e larga 1,87 m, l'ION Ypsilon arriverà con due configurazioni per il motore, uno da 70 kW e 55,5 kWh di batteria, che permetterà un'autonomia di 410 km, ed un motore più grande da 135 kW e 225 Nm di coppia massima, che però verrà utilizzato per due diverse capacità per i bacchi batteria, ovvero una da 63,98 kWh, che permetterà un'autonomia di 500 km, ed uno da 76,8 kWh, che permetterà un'autonomia fino a 600 km, sempre sotto il ciclo NDC. Quest'auto non monta dei veri e propri assi nella manica per quanto riguarda le tecnologie della batteria, ma si impegna molto nella gestione migliore dello spazio, trovando e ingegnandosi per creare degli spazi interni molto particolari. Un esempio molto chiaro potrebbe essere il fatto che i sedili anteriori possono essere reclinati all'indietro per diventare dei veri e propri divanetti slash poggiapiedi per i sedili posteriori. Questa configurazione permette all'auto di avere un vero e proprio cinema all'interno dell'abitacolo, come mostrato proprio da GAC. Insomma, a me sembra che vogliano un target molto più giovane per questo minivan, anche se questa tipologia di veicolo di solito è indirizzato verso le famiglie, le persone che hanno magari dei figli o devono trasportare tante cose. La Ion Y arriverà ad un prezzo di 109.600 yuan, ovvero intorno ai 15.430 euro, fino ad arrivare alla versione top di gamma che in Cina viene venduta a 157.600 yuan, ovvero l'equivalente di 22.200 euro. E devo dire che ad un prezzo del genere risulta davvero un prodotto molto interessante. Prima di finire questo video però due considerazioni sono d'obbligo. L'ho evitato di menzionare ma tutte queste auto hanno la possibilità di essere dotate di una guida autonoma di livello 3 indicato dall'azienda. Quindi molto probabilmente siamo sul livello 2, dato che per dimostrare il livello 3 della guida autonoma hanno semplicemente fatto parcheggiare l'auto a se stessa. Tutte queste auto inoltre saranno dotate di OTA o Over the Air Update per aggiornare il software del veicolo. Un altro punto che non ho nominato è che non ci sono piani per l'espansione fuori dalla Cina e vi dirò che in realtà questa cosa non mi stupisce particolarmente dato che vi ricordo che la Cina è il mercato automobilistico più grande al mondo. Pertanto si ritrovano con abbastanza richiesta casalinga senza dover andare a rischiare all'estero. Considerando anche che questa azienda ha ancora dei volumi davvero davvero minuscoli per l'automotive. Ma questo era veramente tutto per il video di oggi. Fatemi sapere con un commento qua sotto cosa ne pensate voi di ION e di tutti i suoi veicoli. E a me non resta altro che ricordarvi di mettere un mi piace e iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie mille.